Diciamo oggi, tra l'altro non solo, diciamo fa il compleanno, ma il compleanno è importante, direi molto importante visto che compie 50 anni, quindi mezzo secolo per lei, sicuramente sono convinto ma comunque vedremo che anche David Lynch farà il videomessaggio per lei o comunque le farà gli auguri, poi vedremo ovviamente questo argomento è sempre chiaro, almeno scuro e linciare ovviamente e Medici Enemic che diciamo ha questo nome molto particolare, che in realtà non è un vero e proprio nome non so se lo sapete ma è un nome che i genitori le hanno dato, che in tedesco significa ragazza e l'hanno dato appunto perché volevano scegliere in qualche modo un nome inusuale e credo che insomma ci siano riusciti benissimo poi insomma lei ha anche origini, ha varie origini diciamo a quanto da nazionalità, irlandesi, svedesi e anche diciamo altre terre del nord, quindi è molto particolare diciamo e a me appunto oltre il fatto del nome che mi ha sempre colpito di questa donna, di questa attrice diciamo appunto che è molto particolare, anche un'altra cosa che diciamo ho letto qualche giorno fa che appunto lei è stata fin dall'inizio ma in qualche modo i genitori in qualche modo hanno fatto sì che lei eseguisse le proprie inclinazioni artistiche fin da piccola infatti prese lezioni di pianoforte, di musica, di danza, varie cose per poi diciamo trasferirsi in America e lì diciamo ottenere la fortuna che poi ha ottenuto cioè questa è una cosa molto importante perché secondo me la questione è che i genitori devono farsi che i figli in qualche modo seguino il loro corso, le loro ispirazioni e senza diciamo appunto prestabilire dei piani ben precisi per loro o di risali verso ciò che comunque già hanno fatto nella loro vita perché la costrizione appunto non fa mai bene e personalmente l'ho sempre vista diciamo questa cosa quando mi capita di vederla, di confrontarmi con certe persone che in qualche modo hanno i genitori di questo tipo io comunque anche quando si parla con persone un po' più adulte che hanno avuto i genitori di questo tipo poi in qualche modo crescono sempre frustrate e quindi è sempre bene che diciamo in qualche modo, un po' come dice Kyle Gibran sovranissimo poeta diciamo che in qualche modo i genitori sono come l'arco che poi i figli sono le frecce che in qualche modo devono prendere da sui la loro strada i genitori in qualche modo devono costringere i figli diciamo a seguire necessariamente le loro urme a fare quello che vogliono che sia fatto da parte loro perché i figli in qualche modo non sono una proprietà ma sono un dono e questa è una cosa molto importante di cui dovremmo sempre farne tesoro e di cui in qualche modo devremmo sempre prendere come lezione per la vita e come educazione per loro e per i nostri figli detto questo poi ancora qualche piccola cosa, qualche piccola cosa su Medicinamic Medicinamic, diciamo Medicinamic poi in realtà prima di diventare famosa per il ruolo di scegli in realtà il bevo qualche piccolo ruolo, poi recito in qualche spot pubblicitario qualche una piccola parte diciamo più o meno nota in bevucci per poi appunto essere selezionata diciamo da David Lynch appunto per Twin Peaks pensate un po' c'erano finite le parti un po' per tutti i ruoli e però lui rimase talmente colpito dal modo della recitazione comunque anche da altre cose, dalla bellezza di questa donna che poi le assegnò una parte tutta per lei nuva che appunto fu la parte diciamo di scegli e sì in effetti poi diciamo, altra piccola curiosità, le allergiche ai gatti e poi diciamo lei in effetti è, insomma, ultima chiusa finale, so direi, è una donna straordinaria veramente molto bella, personalmente, personalmente diciamo la metto per quanto riguarda la bellezza, ma in Twin Peaks a M90 la metto insomma, si giocano le prime posizioni, secondo me, è una visione personale Medici Enemic, Lara Flynn e Boyle, appunto la nostra donna donna e scegli, personalmente per me a Bevani c'erano anche altre donne bellissime però loro due in qualche modo stanno in un posto un po' privilegiato per quanto mi riguarda e, insomma, sì, poi credo che metterò qualche foto su alquanto la del post di Facebook e, vabbè, poi ricorderete quelle parentesi straordinarie nella serie con Gordon Cole, cioè interpretato appunto lo stesso David Lynch, no? nelle prime due stagioni, vabbè, comunque, personaggio bellissimo, secondo me e, appunto, io adesso la mangerò, diciamo, con un brano composto da Angelo Badalamenti e David Lynch che si chiama proprio Shelly, non so se qualcuno la conosce già un brano è un po', non è molto conosciuto, anche per i linciani parlo comunque ho già feci una versione vecchia qualche mese fa ma, una versione qualche mese fa, adesso la rifaccio una versione nuova, spero di averla fatta sicuramente meglio e detto questo, poi, insomma, continuatemi a seguire, diciamo mettete il mi piace qui per quanto riguarda YouTube, appunto se volete, iscrivetevi, fatevi semplicemente un giro sul canale e poi ci vediamo appunto alla prossima e comunque tra qualche giorno ancora ci sarà un altro personaggio di Twin Peaks diciamo da omaggiare, ma non dico quale i più curiosi lo capiranno ora, se o comunque i più esperti probabilmente ce lo sapranno un personaggio in certo senso sembra minore, ma in realtà è molto importante allora ciao e alla prossima